ti metti in posizione scende tanto comunque il treno di dietro tienilo sentilo perché la roccia comunque tiene a meno che non blocchi se la prendi in mezzo la fai tutto e molli sei dritto devi partire più dietro perché devi andare tutti i due piedi sopra se non gli hai sopra il peso non lo dai nella ruota cioè è tutto davanti quando arrivi adesso tu parti da là dai una pedalata metti il piede su fai questo molla il freno davanti ok tanto qui non vai dritto freni hai tutto il tempo che vuoi però non tenere il freno davanti tirato che già così non va bene capito così è normale che ti cappotti braccia questa la posizione poi c'è una gomma della madonna quindi quando tu sei qua tu arrivi sei qua sei qua e molli ovvio è ovvio che qua sei più in difficoltà rispetto ad essere qua ma comunque qua guarda io sto non è scarica quindi guarda e tu fai questo cioè piano tanto ripeto non hai bisogno di velocità perché la copi ok quando tu quando arrivi giù massi quando arrivi sull'angolo bordo ok ok però quando tu può inizi a scendere appena vedi che tanto non hai dossi il freno davanti deve essere mollato avanti si dietro lo puoi anche tenere tirato perché tanto lo scarichi e vai giù però appena vai giù poi devi riportarti in posizione perché dopo fai questo si capito prova prova prima ad arrivare lì vai piano tranquillo arrivi lì e ti fermi state riprendendo sì sì se non mi cappotto io adesso ma se tu vedi sei arrivato qua sei arrivato sullo sport guarda vedi se tu invece passi qui questa è roccia se tu non dai peso peso indietro molla vedi che hai frenato proprio lì sellino se li aspettavi un secondo andavi giù di punta ma lì dovevi mollare andavi giù posizione posizione in piedi perfetto talloni bassi molla il tallone basso e stare in piedi ti aiuta a gestire il peso questo qui è il passo prima dello scapuzzo di sopra quello è proprio dritto non hai niente e comunque lo copi vai posizione in piedi ok vai molla mai così e mo ma mazzo io alla fine quando lo fanno ha cagato eh ma è quello è mentale però è mentale anche se lo vedi da qua ti cagio complimenti a me la difficoltà tecnica di questo è la controvendenza e ho mollato il freno davanti è quello bisogna fare quello è quello che ti fa ammazzare Eh si Vai vai Dai Bravi ragazzi Dai Dai